Rapina a mano armata, questa mattina all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata. Preso di mira all'ufficio Ticket del nosocomio licatese, un rapinatore si è avvicinato all'impiegato che si trova nello sportello e sotto la minaccia delle armi gli ha intimato di consegnare i soldi degli incassi della giornata. Pare che il bottino ammonti è circa 5.000 euro. Una denuncia è stata presentata immediatamente alla polizia intervenuta sul posto per i rilievi. In commissariato si è recato l'impiegato che ha subito la rapina per la presentazione di una dettagliata denuncia.